Essere normale è un'impresa eccezionale, ma c'è chi ci riesce benissimo. È il caso di Luca Lepri, fanese pieno di sogni, che con la sua determinazione, soprattutto con gli occhi di chi oltre il buio vede la luce, ha ideato insieme ai suoi amici una suggestiva serata, svoltasi domenica nella splendida cornice del Bastione Sangallo, per presentare l'associazione LL Oltre l'Ostacolo. Obiettivo principale, porre l'attenzione su un tema attuale quanto difficile e di grande emergenza, quello della disabilità. Io sono malato oncologico dal 2013 e negli ultimi tre anni sono diventato anche non vedente. Diciamo che la mia situazione è buona, però come in tutte le guerre si perdono delle battaglie e io ho perso la vista. Allora, in questo cammino, lungo cammino, ho incontrato tantissima gente, gente che stava molto peggio di me e sta tuttora molto peggio di me. E ti posso garantire che avrei aiutato ogni singola persona a stare meglio, il problema è che io non posso. E quindi è nata l'idea dell'associazione. La nostra associazione è un'associazione che aiuta le associazioni che aiutano il bisognoso e quindi questa cosa ci fa piacere, insomma. Quindi aiutiamo le associazioni a fare del bene, facendo serate di beneficenza e serate che mirano alla sensibilizzazione della disabilità. Un'ora circa densa di emozione, durante la quale sono stati proiettati un video autoironico dei protagonisti, quello dei comici Ale Franz e il racconto della splendida esperienza vissuta dal presidente Luca e dall'amico Massimiliano Barbadoro durante il cammino di Santiago dei Compostela. Per me è stata una prova, una prova perché ho voluto dimostrare a me stesso e alle altre persone che anche un disabile può fare cose che le persone apparentemente normali fanno. Quindi è stata una sfida che abbiamo vinto, è stata molto faticosa, però ti posso garantire che ha dato tante tante soddisfazioni, insomma. La serata è stata anche occasione per destinare una parte dei fondi raccolti attraverso la vendita delle vignette realizzate dal fumettista Pierz a favore dell'associazione AGFI, diretta da Francesca Busca. Noi abbiamo tante progettualità attive, quindi sicuramente verranno utilizzati per questi progetti. Noi gestiamo la casetta degli scout, abbiamo lo sportello di H-Risponde dove abbiamo due tutor che sono a nostro carico, abbiamo un altro progetto che è Imparare Facendo, quindi le nostre diciamo sicuramente quello che ci verrà donato, noi chiaramente lo attesteremo e saranno utilizzati per le attività che portiamo avanti. A riscaldare gli animi e i cuori dei presenti, le voci e le note delle cantanti Elisa Ridolfi e Stefania Paterniani. Dandone combate a un rio, così è come si bella! Grazie a tutti